E... parto! Perché essere interista? No, perché essere interisti vuol dire essere innamorati cronici. Ho guardato in camera? Sì. Perché il cuore fa sempre di testa sua, soprattutto quando... No, soprattutto sennero azzurro. Ok. Come hai panchina? Franci in panchina? No, Franci in panchina no. Franci in panchina. Se sei interista dentro, ci vediamo lo stai. Io sarò lì. Salciro.